Una partita importante, anche se sembrava facile vincere, era molto importante per noi vincere. Abbiamo giocato bene, perché comunque andiamo ad un torneo adesso a Qatar che sarà più difficile, però dopo questa vittoria giocheremo anche ancora meglio. Io vedo molto bene la squadra, stiamo giocando molto bene, abbiamo vinto anche contro Pesaro, abbiamo giocato tutte, tutta la squadra è entrata, tutte le ragazze hanno giocato bene.